allora non so se isaac mi stia prendendo in giro o cosa però nel momento in cui ho smesso di registrare giuda e ho fatto un po di partite per conto mio ho battuto il cuore la boss rush satana e the lamb sì penso che mi stia prendendo in giro allora quest'oggi voglio provare a fare una partita così solo per godermela con azazel per farvi vedere quanto io non lo sappia usare ho anche messo non so se notate il controller i tasti che premo li vedrete in diretta guardate che bella guardate che bella guardate che bella guardate che bella ok e direi di partire siamo tornati senza audio di gioco e cacche per iniziare mi sembra giusto e qui abbiamo alt up buono partiamo subito bene e qui ok questo è buono mi dovrebbe permettere di distruggere le rocce caricando solo ogni stanza vero no assolutamente no mi rende invulnerabile quindi va bene aia o di fuochi rossi e tu vai giù e qui abbiamo regeneration più hpa la placetta per chi non si accontenta è sempre bello quando dei prosciutti ti vogliono uccidere ok adesso facciamo la cosa figa qui abbiamo bombe che ci danno la carta le tower che non ci serve e yes perfetto ok guardate che bella adesso sono sotto il controllo e direi questo io prenderei anche questo no non lo voglio guardate quanto siamo carini dei piccoli diavoletti con le corne il cappuccio nero e sono un cretino sono un cretino se sono un cretino sono un cretino io che ci devo fare sono un cretino è però bombe grazie e qui abbiamo non mi serve in realtà ma è meglio di quello che ho quindi me lo tengo mostro il mio raggio laser il mio raggio laser ti distruggerà aiuto onda energetica aia ciao e caffè in pill più ah già ci siamo già stati niente ho un po' paura a usare questa pillola small rock e qui abbiamo dark one aia perchè che ti ho fatto io no ciao hpa e io non ho trovato la stanza del tesoro qui ma senza mappa non la cerco nemmeno ciao qui potremmo avere wow non sapevo nemmeno esistesse una stanza così mio ragni bombe pillole fuori altra bomba e coda di gappi nice tears down e speed up va bene e questo va bene perfetto è praticamente esploso va bene e ok no non lo farai aia ma non dovevi correre prima perchè mi sono fatto prendere va bene ma si può trovare questo scary che non ci ha cambiato nulla a noi praticamente andiamo e qui abbiamo tears up buono oh ho trovato anche la stanza aha ah non lo meritavo però ho tantissimi soldi adesso ahia perchè mi ha colpito però hp up no 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 non ridere non c'è niente da ridere ok cuore nero uh bello questo mi protegge da un danno comodo e chi abbiamo qui mamma ahia ahia e abbiamo sbloccato la boss rush niente male ok ok cosa vorreste non posso mica mettermi a fare un montaggio con musica super tamara dove batto ogni singolo boss ciao ciao Nooo Ah Ok Pensavo fosse finita Invece niente Ok non abbiamo battuto la boss rush Però Ora con mezzo cuore Sono sicuramente pronto Per affrontare il cuore di mamma Vero? Ok andiamo Giocare senza audio Mi sta mettendo un'inquietudine che non avete idea Sono morto Esatto Ok non è andata Come avrei voluto Però È stata una bella run con Con il nostro Azazel Ok Beh ci vediamo A un possibile prossimo video Intendo di Isaac Ciao